Mi dispiace non lavorare, caro mio. Non degnano proprio. Questa è la mia vecchia società, comunque sì. Tu lavori con i bambini? Sì. E che sposto? No, sono sempre il pari di un gioco. Dopo faccio lavoro con la vita che fa manutenzione alla Lega del Ciclo d'Oro. Quindi sempre... Cuccio l'Ipsilon a 40-50 giorni. 50 giorni. Il problema è sempre quello. Il problema è sempre quello. Io fortunatamente il lavoro ce l'ho e anche perché non paga ce ne vengono. E' quello che mi portare.